La ditta Mabo è una ditta che c'è dal 52, da quando i nostri genitori hanno iniziato. Produciamo un po' di tutto, un po' per tutte le linee, uomo, donna, bambino, pronto moda, programmato. Qui ci sono alcuni esempi della nostra produzione. Tutto quello che produciamo è predisposto per essere a magazzino, almeno quello che presentiamo in cartella. E poi naturalmente ci rivolgiamo anche a una serie di clientela che ha bisogno di cose personalizzate, per cui su quello facciamo uno studio particolare. Di stagione in stagione inseriamo cose nuove, alcune vengono un attimino restylizzate, eccetera, eccetera. E poi abbiamo dei pacchetti di campionario dedicati o alla camiceria, o alla donna, o ad altre cose, o all'uomo. Prendiamo dei bottoni in versione bruciata, i bottoni lucidi opachi, i bottoni in materiali naturali come questi, oppure fatti con delle bacche, tipo il corozzo, oppure con l'osso stesso che è questo. Non ci fermiamo solo sui bottoni in poliestere, ma anche su tutto quello che è la metalleria, dove facciamo gli stampi internamente e oltre a tutto un discorso di bottoni a fuori, a gambo, poi naturalmente trattati con diverse galvaniche, verniciature, eccetera, eccetera. Prendiamo poi anche tutta la serie dei bottoni a pressione, bottoni a jeans, gli automatici da cucire a mano e soprattutto, è un'esigenza di mercato attuale, tutto il discorso delle personalizzazioni. Cerchiamo di avere una selezione abbastanza variata per cercare di accontentare tutti i clienti. Questa è la Mabo dal 52 ad oggi e speriamo per altri 60 anni.